Oggi ti mostrerò un nuovo repository di tendenza che può creare e distribuire app web full stack in un paio di secondi, ed è completamente gratuito. Si chiama Bolt Ponyu, e la cosa fantastica è che è un progetto open source, il che significa che puoi usarlo gratuitamente, localmente, ed è piuttosto estendibile. In un certo senso questa è una nuova alternativa gratuita a V0, il nuovo costruttore di componenti UI di Vercel, che mi ho mostrato nello scorso video. Immagina se un prodotto AI Dev come Cloud Dev o V0 di Vercel ti permettesse di installare pacchetti, eseguire back-end e modificare il codice senza problemi. Bene, puoi fare tutto questo con Bolt Ponyu. Ed è qui che puoi semplicemente inviare un prompt, modificarlo, eseguirlo e realizzare applicazioni full stack con facilità. Ti permetterà di accedere ad ambienti di sviluppo completi, che supportano MPM, Vite, Next.js e altro ancora, grazie a diverse AI. E questo combina il potenziale con un robusto ambiente Dev, rendendo lo sviluppo di app più veloce e accessibile che mai. Basta dare un'occhiata a questo video dimostrativo, che mostra come una persona sia stata in grado di costruire un sito web di e-commerce di base e sia stata in grado di implementarlo con Netlify letteralmente in pochi secondi. All'interno del terminale è stato possibile vedere che sono stati installati un paio di pacchetti diversi per generare questa applicazione. E questa è solo un'anteprima del negozio di e-commerce che è stato sviluppato. Sarai in grado di visualizzare i prodotti in più pagine diverse. In questo caso, ha creato un catalogo di prodotti diversi con un carrello della spesa. Così facendo, è stato in grado di creare un'applicazione completa. Come ho detto all'inizio, si tratta di uno strumento open source a cui si può accedere localmente sul proprio computer, impostandolo con i seguenti comandi, che vedremo più avanti nel video. Ma sarai anche in grado di utilizzare l'applicazione in modo diverso. Potrai anche accedere al piano personale, che vi darà accesso a Bolt.new sulla loro demo cloud. Qui sarà alimentato dal modello Sonic 3.5 con 200k a context window. È sufficiente registrare un account con un indirizzo email andando semplicemente sul sito web bolt.new, di cui vi lascio un link nella descrizione qui sotto. Nel pannello di destra è sufficiente registrarsi con un account GitHub o con un account email. A mio parere, è meglio registrarsi con la propria email piuttosto che con un account GitHub. Una volta terminato, sarai in grado di accedere a entrambe e a tutte le tue conversazioni. Nel pannello di sinistra è possibile modificare le impostazioni. È possibile attivare il tema e anche l'editor e l'aspetto all'interno delle impostazioni. Si può chiedere di costruire in base a un prompt, come quelli qui sopra, o a un prompt specifico e personalizzato, oppure si può avviare un'app vuota con il proprio Slack preferito. Quindi, in questo caso, se vuoi scegliere uno Slack a tua scelta, come React, puoi fare clic su di esso e verrà creato un server vuoto basato su React. In questo caso, verrà installato il pacchetto. E da qui si può iniziare a codificare con questo tipo di elemento artefatto che si può iniziare a richiedere di sviluppare. Facciamo una prova. In questo caso, lo utilizzerò per costruire un'applicazione web full stack per una libreria online che permetta agli utenti di sfogliare i libri di diverse categorie, come ad esempio la possibilità di passare attraverso la narrativa, la saggistica, i best seller, e può essere in grado di vedere ciò che stanno leggendo. Il cliente può aggiungerlo al carrello e procedere al checkout. In questo caso, è possibile caricare i propri file in modo da replicare una UX. Si può anche fare in modo che, una volta scritto un prompt, si possa migliorare il prompt in modo che l'intelligenza artificiale possa seguire facilmente questi passaggi. Ora che ho questo, inviamolo e vediamo cosa è in grado di fare. Si vede subito che apre il codice base, o l'editor di codice, e si concentra sullo sviluppo di tutti i file iniziali, che si vedono sul lato sinistro. Si concentrerà anche sulla creazione di un piano per gli utenti. Eseguirà comandi come npm install, aggiornerà i file necessari e lo farà senza l'intervento di un umano. In questo caso, quindi, si concentrerà sullo sviluppo di tutto ciò che è essenziale e in un paio di secondi dovrebbe essere completamente sviluppato. Una cosa che saprete è che si concentrerà anche sullo sviluppo dei percorsi back-end e dei componenti front-end. In questo caso, quindi, svilupperà completamente il back-to-front-end per voi. E ti permetterà di apportare modifiche anche dopo aver terminato lo sviluppo. Ora sembra che abbia terminato lo sviluppo di tutte le diverse fasi che avevamo richiesto. Quindi, per eseguire il progetto, è viene mostrato che è necessario avviare il server back-end e avviare il server di sviluppo front-end. Quindi, quello che farò ora è distribuire questa applicazione facendo semplicemente clic su deploy. E si concentrerà sulla preparazione del deployment back-end e del deployment front-end che mi aveva richiesto. Il bello di Bolt è che, se incontra un problema, trova anche una soluzione per risolverlo. In questo caso, il comando non è riuscito a essere eseguito, quindi verrà risolto riempiendo le dipendenze necessarie. E si può vedere che ora sarà in grado di eseguire questo comando. Questa è l'applicazione che è stata in grado di generare un output. E si può vedere che ha codificato tutti i file necessari dal back-end fino al front-end. È possibile vedere tutti i libri che è stato in grado di generare, ad esempio in termini di varie categorie, come la narrativa, la saggistica, la scienza e il fantasy. È possibile visualizzare i dettagli. Ovviamente, non è in grado di farlo perché non ho nulla collegato ad esso, ma è possibile aggiungerlo a un carrello. E si può anche avere in modo che abbia creato una dashboard utente per questo. In questo esempio, mi è stato chiesto di creare un sito doc per un sito web, di esempio. E, in questo caso, è stato in grado di generare questa pagina web, dall'aspetto davvero moderno, con la possibilità di alternare il tema. Questo è un esempio dei documenti che sono stati creati, e si trattava di qualcosa che poteva essere sviluppato semplicemente con un paio di richieste. In sintesi, hai molte possibilità di eseguire strumenti NPM in varie librerie, eseguire server Node.js, interagire con API di terze parti, eseguire il deploy in produzione con un singolo prompt, e puoi anche condividere tutto questo come URL. Se si vuole distribuire con StackBlitz, è possibile scaricare tutti questi file, creare un repository e salvare tutti i vari file generati con l'IA. In sostanza, si tratta di un ottimo strumento Node, che rappresenta una valida alternativa a cloud, a v0 e a cloud dev. Ora, se sei interessati a installarlo localmente, puoi semplicemente clonare questo repository copiando questo. Dovrai assicurarvi di avere git installato, andare nel prompt dei comandi e incollare questo link. Inizierà la clonazione del repository. La prossima operazione da fare è installare PNPM. Puoi semplicemente andare a questa documentazione, di cui vi lascio un link nella descrizione qui sotto, e installarla per il tuo sistema operativo. Successivamente, devi copiare questo comando che installa le dipendenze, e devi andare nella directory di Bolt, digitando cdboltnew, e poi puoi incollare questo comando di installazione. Una volta fatto questo, sei a posto. Una volta terminata l'installazione, puoi aprire VS Code e aprire la cartella che abbiamo appena clonato. Quindi in questo caso puoi farlo semplicemente andando sul file, facendo clic su Apri cartella e trovando dove hai clonato la repository. Una volta aperto, si deve fare clic su Crea nuovo, quindi è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sul pannello e fare clic su Crea nuovo file. Crea un nuovo file, chiamalo .env, e all'interno di questo file copiare questo comando, che è la chiave API di Anthropic, per poi tornare al file e incollarlo. E incolla la tua chiave qui. Una volta fatto ciò, fai semplicemente clic su File e poi su Salva. Ora, una volta impostata la chiave API, si hanno a disposizione tutti questi diversi comandi. Puoi eseguire il server di distribuzione con questo comando, che è PMP Run Dev, ma invece di usare il solito comando, si può usare PMP Run Preview. In questo modo si avviano insieme sia il front-end che il back-end. E garantirà la piena funzionalità della vostra applicazione. Dopo aver incollato il comando PMP Run Preview, sarai in grado di accederci sul tuo host locale. E questo è praticamente tutto per il video di oggi su Bolt. Si tratta di un nuovo modo per distribuire facilmente applicazioni web full stack. È un'ottima alternativa a V0, a Cursor e a Odd Dev. L'unico problema è che manca la possibilità di utilizzare altri provider. E spero che alla fine lo sviluppino. Ma questo è praticamente tutto per il video di oggi su Bolt.new. Ti lascio tutti i link che ho utilizzato nel video di oggi nella descrizione qui sotto. Assicurati di iscriverti, di attivare la campana, di mettere mi piace a questo video e di dare un'occhiata ai miei video precedenti. Vi auguro una giornata fantastica. Diffondete positività e ci vediamo presto.